Riccardo? Sì, allora c'è però... Approfittiamone per tornare in diretta che c'è un gran lancio di Bernardeschi per Ronaldo Castolo, posizione regolare, Ronaldo, Ronaldo, Ronaldo! La prima volta in bianco-nero! Mette la palla all'incrocio, batte Loria, freddissimo, su una splendida sventagliata di Federico Bernardeschi. Buono il controllo, freddezza glaciale, 1-0 per la Juve sulla primavera.